Spediamolo Wow, è fortissimo! L'ha visto? Applausi Applausi L'ha passata? L'ha passata, è alto, se siete anche in piedi L'ha passata Leonardo Gallitelli L'ha passata? L'ha passata L'ha passata L'ha passata L'ha passata Grazie a tutti. Gli spadroni al trotto effettuano un'incrocio a pettine sull'asse longitudinale, da cui usciranno perline trasversali parallele. Al trotto di lavoro gli spadroni per quadriglie impegnano completamente il campo, disegnando con perfetto sincronismo una scacchiera. Al segnare dei piatti della fanfara le quadriglie rompono la formazione in colonna, effettuando delle poggiate laterali di diversa ampiezza e continuando il movimento in avanti su sei linee parallele. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gli spadroni al trotto effettuano un'incrocio a pettine sui linee parallele. Con un'impegnativa prova di concentrazione e abilità di equilibrio, le formazioni avvolgono due squirari al centro del campo, dalle quali usciranno al trotto per apprestarsi alla prossima figura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una targa al Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Una targa al Comandante Generale. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie.